È tornato in carcere il medico di 43 anni di Lucca accusato di tentato omicidio e lesioni personali aggravate e i danni di un anziano di 82 anni in centro storico. I carabinieri della sezione operativa della compagnia provinciale con i colleghi della stazione di Lucca hanno arrestato il professionista in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa perché mentre era ai domiciliari il medico avrebbe ripetutamente violato le prescrizioni incontrando persone coinvolte nelle indagini. La richiesta di aggravamento del regime cautelare dal momento che era stata rigettata a luglio dal GIP del Tribunale di Lucca che aveva nel frattempo sostituito la misura dei domiciliari con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è stata esaminata e accolta a settembre dal Tribunale delle Riesame di Firenze. Il quadro indiziario a carico dell'indagato è stato ritenuto grave e i comportamenti disdicevoli. Nei giorni scorsi è arrivata la pronuncia della Cassazione che ha rigettato il ricorso proposto dal medico. Il 42enne è accusato di aver aggredito e picchiato violentemente l'anziano il 19 febbraio all'interno della sua abitazione in centro causandogli un forte trauma cranico per il quale l'uomo è stato ricoverato per diverso tempo all'ospedale di Cisanello. Per il professionista si sono aperte le porte del carcere di Lucca in attesa che le autorità giudiziarie competenti giudichino la responsabilità del 43enne.